Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori obiettivi Canon del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato l'obiettivo Canon EF S10 18mm F4.5 5.6 IS STM. Questo obiettivo Canon è compatibile con le fotocamere con sensore APS-C. Dopo averlo estratto dalla sua scatola colpisce subito per la sua leggerezza e compattezza. Infatti pesa solo 240 grammi per una lunghezza di circa 8 centimetri. Inoltre è un obiettivo zoom grandangolare che ti consente di espandere il tuo campo visivo senza muoverti. Ciò consente di scattare foto nitide con la massima facilità possibile. Inoltre questo modello ti offre una visuale molto ampia. Sarà semplicemente pazzesco vedere quanto può ospitare il tuo obiettivo. E non è tutto, puoi anche cambiare le impostazioni per immagini più nitide e di maggior impatto. Tuttavia le aperture massime sono piuttosto limitate. F4.5 x 10mm e F5.6 x 18mm. Notiamo che è realizzato interamente in plastica, anche se questo gli conferisce un peso ridotto. Come di consueto su Top Tech, se vuoi avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione di questo video. Avrai a tua disposizione tutti i link cliccabili. Al terzo posto abbiamo selezionato l'obiettivo Canon RF 35mm F1.8 IS STM. Questo obiettivo Canon è anche un modello molto compatto e leggero. E soprattutto è il modello più compatto compatibile con la Canon EOS R. Inoltre si distingue dai suoi concorrenti per la sua apertura massima F1.8. Con questa proprietà puoi ottenere immagini molto nitide anche in condizioni di oscurità. E quindi uno strumento adatto per fotografare di notte, ad esempio, durante le serate. Con la sua lunghezza focale di 35mm, questo obiettivo offre una visione leggermente più ampia di quella di un occhio umano. E quindi uno strumento ideale per fotografare l'ambiente, il paesaggio e molto altro. Un utilissimo alleato durante i tuoi viaggi. Inoltre ha uno stabilizzatore d'immagine a 5 velocità, che aiuta a ottenere immagini ancora più nitide. Tuttavia l'anello di messa a fuoco su questo modello sembra essere un po' troppo morbido. Al secondo posto abbiamo selezionato l'obiettivo Canon EF 16-35mm F4.0 LIS USM. Canon offre qui uno zoom grandangolare con una variante di lunghezza focale, compresa tra i 16 e i 35mm. Questa tecnologia è molto utile per la versatilità nello scattare foto a diverse distanze. Come di consuetudine con Canon, abbiamo diritto a un modello solido, robusto, resistente all'acqua e alla polvere. Ci dispiace però per il suo peso, che può essere abbastanza elevato per i più esigenti, 620 grammi. Tuttavia è quasi impossibile fare di meglio se si considerano i materiali di costruzione e le prestazioni. Per quanto riguarda l'anello di messa a fuoco è un grande risultato per il marchio. In effetti è fluido e facile da usare. Inoltre questo anello ha segni di stop minimi e massimi. Tuttavia si denota una certa mancanza di stabilità. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato su internet, clicca sui link presenti nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato l'obiettivo Canon EF 50 mm f1.8 STM. Il primo posto in questa classifica è occupato da un modello con focale di 50 mm, né troppo grande né troppo piccolo, semplicemente perfetto per ottenere le migliori immagini possibili. Come gli altri modelli a lunghezza focale fissa, anche questo offre una buona nitidezza delle immagini. Puoi usarlo per scattare immagini nitide praticamente di tutto ciò che ti circonda. Inoltre con la sua apertura massima di f1.8, l'oscurità non sarà un ostacolo per te. Puoi scattare immagini piuttosto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Quando si tratta di compattezza e leggerezza, questo obiettivo rasenta la perfezione. Con un peso di 0,28 kg per dimensioni di 39x39x69 cm, risulta essere abbastanza leggero. Puoi quindi usarlo con grande facilità e senza sforzo. Ha anche uno stabilizzatore d'immagine per darti immagini nitide e pulite. Fondamentalmente è uno dei migliori prodotti a lunghezza focale fissa. Ora quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e cliccare sui link per avere tutte le funzionalità complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta, mettici un mi piace, ci scalderebbe davvero il cuore e iscriviti al canale Top Tech per essere informato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!